Doveva essere una piazza stracolma tale da dare l'avvio a una campagna nazionale capace di far deragliare i piani del premier Pedro Sanchez sull'amnistia per i secessionisti catalani, ma la grande manifestazione promossa a Madrid dal partito popolare spagnolo ha registrato numeri non all'altezza delle aspettative. Due settimane fa il leader del partito popolare Alberto Nunez Fejo aveva promesso una mobilitazione permanente in tutto il paese per muovere un'offensiva su tutti i fronti contro il perdono ai protagonisti della stagione secessionista del 2017 che avrebbe preso le mosse dalla grande manifestazione nella capitale a due giorni dall'esame della legge in Parlamento. E al grido di o amnistia o democrazia migliaia di persone, 45.000 secondo la prefettura sventolando bandiere spagnole ed europee, si sono concentrate nella centralissima plaza di Spagna per protestare per l'uguaglianza e contro le concessioni fatte dal governo del partito socialista operaio spagnolo ai partiti indipendentisti come contropartita dei voti per la rielezione a novembre di Pedro Sanchez. Ma se doveva servire a mostrare i muscoli e a capitalizzare l'indignazione e la protesta, la quarta indetta da Fejo contro l'esecutivo progressista, non è stata certo di massa. La partecipazione è stata infatti inferiore alle 60.000 persone convocate dai popolari.